Schianto mortale la notte scorsa a San Martino di Lupari, a perdere la vita un 66enne di Castelfranco Veneto, Luigino Danieli. L'uomo poco dopo le due ha perso il controllo della sua BMW X6 finendo contro il muretto del ponticello di accesso a un'abitazione di via Sant'Andrea. Nonostante la rapidità dei soccorsi, il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo di Danieli che di professione faceva l'autotrasportatore. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno o dalla eccessiva velocità della vettura. I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il corpo dell'automobilista dalle lamiere dell'auto. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba di oggi.